Musica Potranno essere pagati senza sanzioni i tributi non versati dal 2000 al 2015, l'Assemblea Civica approva un regolamento all'unanimità. Il settore energetico al centro del dibattito politico si allontana la costruzione del quinto gruppo della centrale di Fiume Santo, accordi non rispettati. E' partito il conto alla rovescia per il centesimo giro d'Italia che partirà dal Ghereto e toccherà quattro città sarde che nell'attesa si colorano di rosa. Tg di Canale 12, buonasera e ben trovati. In apertura parliamo di tributi, l'avete visto dagli strili del nostro sommario. Siamo a Sassari, i tributi comunali non pagati dal 2000 al 2015 potranno essere pagati senza sanzioni. Lo ha stabilito il Consiglio Comunale che ha approvato un apposito regolamento. Sentiamo Luca Foddai. Niente più sanzioni per chi il del 2000 al 2015 non ha pagato ICI, IMUTTI, ATAR e SETTARI. Lo stabilisce il regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Sassari nell'ultima seduta. Viene così recepito quanto stabilito dal decreto legge del 2016 e dal collegato alla legge di bilancio 2017. La novità è stata già ribattezzata rotamazione delle cartelle. Il cittadino debitore, con una dichiarazione, comunica all'esattore la volontà di servirsi dell'agevolazione. Saranno così definite le rate e la loro scadenza. Dovrà essere eseguita una procedura ben precisa, ha spiegato all'Assemblea Civica l'assessore dei tributi Alessio Marras. La definizione agevolata riguarda le violazioni tributarie. Per le multe stradali saranno invece abbonati solo gli interessi moratori e la maggiorazione di un decimo per ogni semestre, mentre dovrà essere versata la sanzione. Il settore tributi all'entrata del comune di Sassari, dal 2014 al dicembre 2016, ha inviato atti di ingiunzione per ICI, Muttia e tali non pagate per un importo di quasi 4 milioni di euro. Con l'approvazione del regolamento, i debitori non pagheranno sanzioni per un importo di circa 1 milione e 372 mila euro. Il regolamento è stato approvato all'unanimità. E ora parliamo di università. Sono stati stanziati dall'Er su Sassari 500 mila euro per il bando Fitto Casa, già online, per poter partecipare fra i requisiti fondamentali oltre al merito, essere in possesso di un regolare contratto d'affitto. Sentiamo. Sono stati stanziati dall'Er su Sassari 500 mila euro per il Fitto Casa, di cui 150 mila per gli iscritti al primo anno, mentre 350 mila andranno a coprire l'esigenza per tutti gli iscritti ad anni successivi al primo. Il nuovo bando di concorso per l'attribuzione e il rinnovo dei contributi per il Fitto Casa per l'anno scolastico 2016-2017, destinati all'abbattimento dei costi relativi al canone di locazione, è online su ersussassari.it. Il bando si rivolge a tutti gli studenti fuori sede, nati o residenti in Sardegna, da almeno 5 anni, iscritti nell'anno accademico 2016-2017 ai corsi di laurea triennale e magistrale o al ciclo unico dell'Università di Sassari, del conservatore Luigi Canepa, dell'Accademia di Belle Arti Mario Sironi o dell'Istituto di Scienze Religiose di Tempio Pausania. Per poter partecipare farà fede l'Ise, che non dovrà essere superiore ai 35 mila euro. Inoltre è necessario essere iscritti non oltre al primo anno fuori corso. Il merito resta il requisito fondamentale nel bando ersu, è infatti specificato alla votazione minima del diploma, della laurea per le matricole, corsi triennali e al ciclo unico per gli iscritti al primo anno delle lauree magistrali. Al momento della presentazione della domanda di concorso, gli studenti dovranno possedere un contratto d'affitto registrato regolarmente di durata non inferiore ai 10 mesi. La domanda dovrà essere inviata online tramite il sito istituzionale entro non oltre le ore 13 del 28 febbraio 2017, mentre la domanda cartacea dovrà essere inoltrata via posta certificata, ordinaria o consegnata a mano nelle sedi indicate, e successivamente alla spedizione della domanda online e non oltre il 28 marzo 2017. Restiamo a Sassari, torniamo a Palazzo Ducale. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale è stato approvato il nuovo pool, il piano di utilizzo dei litorali, uno strumento fondamentale per programmare gli interventi di carattere turistico ricettivo sulle coste che ricadono nel territorio comunale di Sassari. Sì, all'unanimità, al nuovo pool del comune di Sassari. L'Assemblea Civica ha approvato il piano di utilizzo dei litorali, uno degli strumenti di attuazione del PUC, il piano urbanistico. 120 elaborati rilievi cartografici, una mappa dettagliata delle coste che ricadono nel territorio comunale, circa 44 chilometri in gran parte rocce e scogliere, con alcune spiagge di grande rilievo turistico, ancora in attesa di una vera valorizzazione. Plattamona, Fiume Santo, Renamaiore, Argentiera e Portoferro. Il piano di utilizzo dei litorali disciplina la fruizione con finalità turistico-ricreative delle aree demaniali marittime e l'organizzazione dei litorali. Grazie all'adozione del pool, Palazzo Ducale potrà rilasciare nuove concessioni demaniali. Nel territorio di Sassari attualmente ci sono quattro concessioni comunali, che scadranno nel 2020. Con il pool arriveranno a 11. A Portoferro è confermata la porzione di aree nile da tempo frequentata dai nudisti. Tra le novità previste ci sono anche le vie del mare, con l'obiettivo di sviluppare in ogni caletta dall'argentiera fino al territorio distintino dei pontili di ormeggio stagionali. Con il pool stiamo attuando il programma con il quale ci siamo presentati agli elettori. Sono soddisfatto per il lavoro svolto con i tecnici e con i componenti della Commissione Urbanistica, ha detto durante la seduta di Consiglio Comunale l'assessore alla planificazione territoriale Gianni Carbini. Già definito l'iter che adesso dovrà essere seguito, con la pubblicazione della delibera di adozione preliminare del pool sul sito web del Comune e sul Buras, scatteranno i 60 giorni dietro i quali presentare osservazioni in forma scritta, che dovranno essere votate dal Consiglio Comunale. La legge prevede inoltre i pareri di ben tre tasseienti. L'ultima parola sarà quella della Regione. Alla votazione non ha partecipato il Movimento 5 Stelle, cui i consiglieri per protesta hanno abbandonato l'aula. Abbiamo avuto solo quattro giorni di tempo per analizzare centinaia di pagine e tavole. Non vi è stata alcuna attività di partecipazione sul documento, ha detto il capogruppo Marilio Murru. Sì invece dagli altri gruppi di opposizione. E ora ci spostiamo a Fiume Santo e l'energia di nuovo al centro dell'agenda politica. Fra polemiche e accordi non rispettati si allontana la costruzione del quinto gruppo. Intervista alla dirigente del PISDATS, Gavino Gaspa. Mauro Fancello e Argentino Tellini. Centrale Fiume Santo, la visita di ieri delle commissioni ambienti del Comune di Sassere e Porto Torres ha riportato al centro del panorama politico la questione energetica. Il nodo è sempre lo stesso, la mancata attuazione degli accordi. Leon se li era rimangiati e neanche la nuova proprietà, la ceca EP, è disponibile alla costruzione del quinto gruppo a carbone. A dire la verità è contraria anche la nuova amministrazione di Porto Torres. Questo complica tutto. Sentiamo il parere del dirigente del partito Sardotazione, Gavino Gaspa. Dalla visita delle due commissioni consigliari del Comune di Porto Torres e del Comune di Sassere e Fiume Santo emerge soprattutto un dato. Il quinto gruppo a Fiume Santo non verrà più realizzato. Il problema però è uno e non è di secondo piano. Il quinto gruppo era in un accordo e quindi un contratto sottoscritto tra EON, Endesa prima e la Regione Sarda. Quindi se il contratto non viene rispettato, ecco, questo contratto in qualche modo va impugnato. Quindi c'è mancata vigilanza da parte della Regione Sarda sulla mancata attuazione di questi impegni. Devo dire anche da parte dei comuni del circondario. E PH non è che si possa neanche accusare di non voler fare il quinto gruppo perché non ce l'ha come impegno. Ce l'aveva EON che ha beneficiato di quell'impegno perché gli ha consentito di produrre 20.000 ore in deroga con i gruppi 1 e 2. Quindi in deroga vuol dire inquinando il territorio, lavorando in condizione di essenzialità, quindi guadagnando ulteriormente. Tutto questo EON ne ha beneficiato però poi non ha rispettato gli impegni. Ma nessuno ha vigilato. Più mesanto ci sono anche altre questioni spinose. La manodopera locale parrebbe scarsamente utilizzata rispetto alle mestranze di fuori. L'ennesima beffa per il territorio. E cambiamo argomento. Un'ordinanza urgente della Presidenza regionale consentirà di smaltire gli scarti animali soggetti ai limiti del piano di eradicazione della peste suina. Il provvedimento è stato assunto dopo la chiusura dello stabilimento privato di Macchiareddu disposta dalla magistratura. Sentiamo Marco Sanna. Il Presidente della Regione Francesco Pigliaro ha firmato l'ordinanza urgente per il conferimento degli scarti di origine animale per affrontare la situazione di emergenza creatasi nel territorio regionale riguardo il ritiro e lo smaltimento dei sottoprodotti ed evitare dunque pericoli per la salute pubblica e lo stallo dell'intera filiera che va dalla macellazione alla distribuzione delle carni. La condizione eccezionale si era verificata dopo il sequestro disposto recentemente dal GIP del Tribunale di Cagliari dello stabilimento Agrolipsarda di Macchiareddu. L'ordinanza è in vigore per i prossimi sei mesi e il risultato del lavoro congiunto di Presidenza della Regione, Assessorati dell'Igiene e Sanità e della Difesa Ambiente, che hanno preso in carico le segnalazioni delle commissioni attività produttive, salute e politiche sociali, oltre che le sollecitazioni degli operatori del comparto. I rifiuti, definiti SOA, saranno trasformati, inceneriti o conferiti in discarica previ trattamenti igienico-sanitari. L'ordinanza riguarda in particolare certi tipi di scarti di macellazione, il cui trattamento è vincolato dalle norme per l'eradicazione della peste suina africana, i quali non possono essere esportati e smaltiti al di fuori della Sardegna. Vigente l'ordinanza, l'amministrazione regionale promuoverà tutte le iniziative utili e necessarie affinché si possa trovare una soluzione stabile e permanente per lo smaltimento di questi sottoprodotti, così da garantire stabilità a tutto il comparto. Un finanziamento da 300 mila euro concesso dalla regione consentirà di risistemare la strada interna dell'Argentiera, dissestata dalle forti precipitazioni autunnali. Ieri la notizia è stata comunicata a Palazzo Ducale ed un gruppo di residenti che seguivano il Consiglio Comunale. Sentiamo. Sarà finalmente risistemata la strada interna dell'Argentiera che porta dalla piazza alla Mineria Vecchia. La via, ridotta negli anni ad una mulattiera per i continui dissesti idrogeologici, sarà interessata da lavori di regimazione delle acque con canali di scolo e caditoie, sarà poi riassestata con opere di movimento terra e infine riassfaltata. Inoltre, per prevenire nuovi dissesti, le colline di materiali minerali che fiancheggiano la via saranno ripiantumate con essenza della macchia mediterranea. Il tutto grazie ad un finanziamento dell'assessorato lavori pubblici ottenuto dalla regione che ammonta a 300.000 euro. La notizia è stata data ieri in un incontro a margine della seduta del Consiglio Comunale di Sassari agli stessi cittadini della borgata, recatisi, come spesso fanno, ad assistere ai lavori per stimolare gli amministratori a prendersi cura del sito minerario. Il gruppo di cittadini ha incontrato l'assessore ai lavori pubblici Ottavio Sanna e quello alla mobilità e infrastrutture Antonio Piu, proprio mentre veniva comunicata da Cagliari la decisione della Giunta regionale di concedere il finanziamento su proposta dell'assessore Paolo Maninchedda. Il problema della strada interna al borgo minerario era uno dei motivi di lamentela dei residenti che più volte avevano denunciato i ritardi sulle diverse opere pubbliche necessarie alla piccola comunità dell'Argentiera. Ed ora ad Alghero, maxi riqualificazione del verde urbano, con 30 operai nei sei cantieri che stanno ridisegnando il volto della città. Ci racconta tutto Sandra Sanna. Maxi operazione di riqualificazione del verde urbano ad Alghero. Circa 30 operai al lavoro nei sei cantieri messi in opera dall'amministrazione. Gli investimenti messi in campo dal comune stanno ridisegnando il volto della città e contemporaneamente stanno consentendo di dare nuova linfa alle imprese cittadine del territorio. 450 mila euro sono stati stanziati per la messa di mora di 520 piante tra alberi e arbusti, posizionamento pratti, potature di circa 2.200 essenze arbore, la rimozione e la sostituzione di palme colpite dal punteruolo. Dopo la partenza dei cantieri di via Kennedy, di via Le della Resistenza e via Giovanni XXIII, in questi giorni sono iniziati i lavori delle altre zone previste nei sei cantieri in appalto. L'iniziativa dell'assessorato alle manutenzioni e verde urbano Raimondo Cacciotto prevede interventi anche nella pinetta di Maria Pia. Parte importante del piano di interventi, inoltre spiega Cacciotto, è rappresentata dal progetto di manutenzione ordinaria e monitoreggio delle attrezzature ludiche ubicate su tutto il territorio comunale, nei parchi pubblici, nei giardini e nelle scuole, e pose in opera di nuovi giochi nei parchi Manno e Tarragona. Lavori anche su una parte della Iuola spartitraffico di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Spano e via 24 Maggio. Il completamento delle rotatorie su via Domminzoni, la rimozione degli arbusti e la piantumazione delle fioriere del porto. Nel tratto tra via De Gasperi e via Pasquale, infine, verranno piantumate 60 piante di leccio, in continuità con le senza arbore presenti sulla via De Gasperi, a venti altezza di 4-5 metri e 460 piante arbustive. Ed ora ci fermiamo un istante per il break pubblicitario, torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva in primo piano. La grande attesa per il Giro d'Italia e poi parliamo di benevarenze sportive. Restate con noi. E torniamo in studio per la pagina sportiva. Partiamo dal ciclismo, parliamo della grande attesa nell'isola per il centesimo Giro d'Italia, che toccherà quattro città sarde. La Sardegna per occasione veste i monumenti simbolo di rosa per 100 giorni, e quelli che ci separano dalla prima tappa, che partirà da Alghero. Sentiamo. È iniziato il conto alla rovescia per il centesimo Giro d'Italia, che nell'isola toccherà quattro città, Alghero, Olbia, Tortolì e Cagliari, che per l'occasione vestono i loro monumenti simbolo di rosa, che faranno da contatori elettronici scandendo il countdown. Saranno illuminati di rosa la Torre di Sulis ad Alghero, il museo archeologico, la chiesa di San Simplicio, la piazzetta di San Pantaleo a Olbia, il monumento naturale degli scogli rossi a Tortolì, il palazzo civico a Cagliari. Il Giro d'Italia è uno degli eventi sportivi più seguiti nel mondo, imperdibile opportunità di promozione sui mercati internazionali, grazie a un impatto mediatico imponente, 196 paesi collegati in tv e 200 testate giornalistiche presenti nel territorio. L'assessore regionale al turismo Francesco Morandi ha presentato l'iniziativa in conferenza stampa. Abbiamo organizzato un sistema di comunicazione integrato, che consente di valorizzare tutti i canali di comunicazione della regione, di coinvolgere tutto lo sport isolano e di coinvolgere i territori. Tre giorni di tappe sul territorio regionale che ci consentiranno di esprimere al meglio i valori della Sardegna, i valori profondi, l'identità, la tradizione, l'enogastronomia. Un'altra località sarda sarà simbolo di questo giro, Multeddu, nei presidi Castel Sardo, dove è previsto il primo Gran Premio della montagna. Lo sport sardo per l'occasione si unisce insieme, infatti le due squadre sarde più seguite, il Cagliari Calcio e la Dinamo Basket, in occasione della Final 8 di Coppa Italia a Rimini, scenderanno in campo con delle maglie speciali. La Dinamo Sassa rivestirà una maglia con il logo studiato alla regione e animerà il palazzetto all'insegna del Rosa. Il Cagliari Calcio scenderà in campo con una speciale patch celebrativa applicata sulle maglie in occasione dei tre matchi disputati durante le tappe sarde e la corsa. Queste le azioni previste dal progetto regionale di comunicazione per l'avvicinamento alla partenza dell'evento più importante del 2017, condivise con i comuni che ospiteranno partenze e arrivo e con i partner istituzionali, tra cui le società di gestione dei tre principali scale aeroportuali sardi e le autorità dei porti isolani. Sarà un messaggio univoco, un racconto unitario di Sardegna. E si è svolta questo pomeriggio la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive provinciali organizzata dal CONI, pubblico delle grandi occasioni per una serata all'insegna dello sport. Ci racconta tutto Icorio Bichesu. Pubblico delle grandi occasioni per la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive provinciali organizzata dal CONI nel Salone della Camera di Commercio di Sassari. Alla serata, presentata al giornalista della nuova Antonio Ledaditri, erano presenti il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, l'assessore regionale allo sport Claudio Affirino, il suo corrispondente comunale Vittoria Casuo, il presidente del Consiglio di Sassari Esmeralda Ughi, patron della serata, il delegato provinciale Lucio Masia, che abbiamo sentito. La provincia di Sassari e di Olbiatempio sono due province che danno delle eccellenze da rispettare, perché mai avrei immaginato di avere una cinquantina di campioni, tra campioni italiani e podio e medaglie di bronzo, argento, odoro, europeo, mondiale. Tra i vari campioni che hanno ricevuto la targa di benemerenza sportiva, Fabio Podighe, pentatrono italiano, il pilota Omar Magliona, il centauro Luca Manca, riduce dalla Parigi Dakar e il veterano di lotta Enzo Piroddu. L'essenza dello sport isolano ci è stata riassunta dall'assessore regionale Claudio Affirino. Ci sono problematiche, ma c'è anche una grande vivacità, una grande forza del nostro movimento sportivo e anche una maggiore capacità di aiutarsi, di lavorare assieme e di fare progetti in comune. Parole di elogio per la serata, anche dal presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau. È un'iniziativa importante perché va a dare dei riconoscimenti a chi si è distinto nelle diverse discipline e attività sportiva, come atleta, come società o come dirigente tecnico. Ed ora il basket femminile. La storia del basket femminile a Sassari si chiama Sant'Orsola. La squadra oggi milita in Serie B e ha conquistato il secondo posto in campionato che domenica vede partire la fase ad orologio. Abbiamo sentito il coach della squadra, Pietro Carlini. Il basket femminile a Sassari è una società storica, il Sant'Orsola. Le nero-arancio domenica inizieranno la fase ad orologio del campionato di Serie B. Abbiamo intervistato l'head coach Pietro Carlini. Il campionato ha una squadra, fino ad ora, che si è dimostrata, forse un livello, soprattutto a livello di esperienza, un livello superiore dell'Astro. E poi, secondo me, siamo tre squadre, quattro squadre, più o meno sullo stesso livello. Mi puoi dire, siamo secondi e comunque abbiamo perso con Elmas, che in questo momento è ultima. E ci sarà comunque da lottare per cercare di tenere questa seconda posizione, che poi, in un'ottica di play-off, sarà molto importante. Play-off, parola chiave per una società che ha già calcato i palcoscenici di Serie A. Lavorare con questi giovani quest'anno, quante soddisfazioni ti ha dato? Devo dire, fino ad ora tantissime. C'è un gruppo che dal primo giorno viene in palestra. Io chiaramente mi sarei voluto allenare forse anche un bel po' di più, però hai a che fare giustamente con ragazze che lavorano, sono studentesse, hanno tanti impegni. Però devo dire che oggi siamo 14, e vuol dire che chi viene ha veramente tanta voglia, e devo dire che si sono applicate su chiaramente alcune cose che magari erano un po' diverse per loro dal primo giorno. E questo è solamente, per me, un sinonimo di felicità. E questo era l'ultimo servizio. Non ci sono aggiornamenti dell'ultimo. Ora io mi fermo qui. Vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifi tv.tv. L'informazione di Canale 12 torna domani mattina alle ore 7, come di consueto. Non dimenticate la striscia informativa delle ore 14. Ora spazio e la notizia nazionale curata dall'agenzia di stampa DN Kronos. L'appuntamento con il telegiornale è per domani, come sempre alle 19.45. Io vi aspetto, vi ringrazio la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.